Scilla, crocevia dello spaccio di sostanze stupefacenti dell'intera Costa Viola, dove confluivano clienti provenienti da Villa San Giovanni, Bagnara e dalla Spromonte alla Tonnara, da più punti dell'ampia area dello stretto. Un business attivo e rimunerativo svelato dalle inchieste della procura antimafia e dei carabinieri Lampetra, prima e nuova linea dopo. Affari e dinamiche confermati dal collaboratore di giustizia Carmelo Cimarosa, tra i più attivi esponenti dello spaccio in grande stile a Scilla. La sua carriera negli affari della droga sono stati ripercorsi nelle dichiarazioni rese pubbliche ai ministeri Walter Ignazitto, Nicola Decaria e Paola D'Ambrosio nell'estate del 2022, a poche settimane dell'arresto. Ho iniziato a spacciare sostanze stupefacenti circa 7-8 anni fa. Dopo un primo momento in cui avevo iniziato, autonomamente intorno al 2015, cominciai ad aiutare nello spaccio Omicis. Dopo una fase in cui avevo cercato di guadagnare lecitamente ed avevo aperto così un circolo chiamato La Sirena, compresi che non ottenevo guadagni e ripresi l'attività di spaccio.